Le mazzette erano presentate come caramelle e il pubblico dipendente infedeli avrebbe intascato denaro per velocizzare le pratiche, quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Palermo che ha arrestato un imprenditore referente di due società del Messinese attive nel settore Dile e un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. Per entrambi finite i domiciliari l'accusa di corruzione. Durante due incontri nel suo ufficio il pubblico ufficiale avrebbe ottenuto somme di denaro in cambio di servizi. Il funzionario avrebbe velocizzato i controlli di propria competenza e sollecitato i colleghi per chi venissero pagate eccellermente fatture per 130.000 euro. Grazie per la visione!